Allora, devo leggere? Schippo. Gli esperti di storia delle scarpe da running ci direbbero che queste GT2000 versione 9 sono state introdotte sul mercato mondiale 27 anni fa per permettere al podista amatore, soprattutto iperpronatore, di correre lunghe distanze. E voi mi direte, ma sei davvero sicuro? E perché questa scarpa ha il numero 9? Non è che confondi la storia delle Cayano 27 con quella di queste? Torneremo a parlare delle Cayano alla fine della recensione, ma sappiate che sicuramente non mi sbaglio. Dalla data di lancio del 93 ad ogni anno successivo è stato aggiunto il suffisso 10 fino a quando, nel 2012, si è preferito tornare a un concetto più semplice aggiungendo un numerino alla fine. E quindi questo per dire che quando ho deciso di testare queste scarpe, rigorosamente da solo, anche per il DPCM e per le zone rosse, mi sono accorto di trovarmi di fronte a una scarpa sicuramente dalla lunga storia, ma al tempo stesso molto moderna. Prima di dire perché, permettetemi di scusarmi per la mancanza di Andrea, spero che non sia un problema, ad ogni modo gli chiederò un parere appena ci vedremo, soprattutto se questo video raggiungerà le 5000 views. Per ora accontentatevi del coniglio che, a quanto sembra, se l'hai mangiata con gli occhi. A proposito, non perdetevi alla fine del video l'unboxing di Giulia, mia nipote, padoncina del coniglio, a cui ho regalato un gadget tech e che aprirà la nuova ASICS uscita in questi giorni in Italia. Tra l'altro vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi le prossime recensioni tech e, al tempo stesso, attivate le notifiche in modo tale che queste recensioni siano disponibili immediatamente. Senza tornare indietro di 27 anni, vediamo invece le specifiche di queste GT 2000 versione 9. Sappiate che sono classiche, differenziale 10, 29 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede, sono tra l'altro scese di 5 grammi a 280 grammi. Hanno una vestibilità incredibile, un pezzo unico in jacquard mesh, mentre la versione 8 era in mesh ingenerizzato. Non ho provato la versione 8, però conosco i materiali, vi posso dire che la tomaia è super morbida e anche molto confortevole. Nella parte centrale la sensazione di supporto e stabilità è data ulteriormente dal fatto che sono presenti degli strati di rinforzo della tomaia, anch'essi senza cuciture. A completare la sensazione di comfort, la soletta in bambù SL, introdotta qualche anno fa da ASICS, è per la prima volta sulle GT 2000. La soletta tra l'altro è più spessa ed è appoggiata su un montaggio classico orto light. E voi mi direte, così tanti cambiamenti? No, in effetti stiamo parlando solamente di piccole evoluzioni che permettono al prodotto di posizionarsi meglio sulla base di quello che i podisti amatori mondiali hanno richiesto a ASICS. E in effetti l'intersuola in flight foam è esattamente la stessa del modello precedente. Il gel è presente sia nell'avampiede sia nel tallone, dietro è visibile davanti no e secondo me non ha questo un grande impatto sul comportamento della corsa. C'è poi sempre il Duo Max che consente un miglior supporto e protezione, non manca anche ovviamente il Guidance True Stick che offre una maggiore stabilità e protezione al tempo stesso. Sappiate infine che il supporto mediale, quello che corregge tra virgolette la iperpronazione, non è per nulla invasivo né intrusivo garantendo invece soprattutto sulle lunghe distanze una maggiore stabilità della scarpa stessa e quindi un comportamento della corsa eccellente per chi dopo diversi chilometri sente praticamente la fatica. Garantisce inoltre che la parte interna della scarpa sia leggermente più rigida e quindi corregge solo leggermente il nostro comportamento in corsa. E prima di rispondere alle solite domande che oggi purtroppo farò da solo, sappiate che questo modello, almeno nella versione precedente ma sicuramente succederà anche in questa, è disponibile in molte varianti, è stata fatta una versione Gore-Tex, una versione da trail, una notturna, una addirittura con la Tomae Ennit e soprattutto è disponibile in varie larghezze. La diffusione, la presenza fisica del marchio ASICS fa sì che questa scarpa sarà disponibile su tutti i canali, sappiate comunque che a fine settembre ASICS era in forte crescita in Europa a livello IMEA sull'e-commerce e sulle scarpe da più di 90 euro ha guadagnato il 6% di quote di mercato. La suola infine è davvero molto tradizionale, ha una gomma generosamente presente su tutta la superficie, abbiamo già detto del Guidance Trustic nella parte centrale, gomma molto resistente soprattutto nella parte del tallone quindi questo è una garanzia di qualità e di un utilizzo abbastanza prolungato. A chi sono adatte queste scarpe sono adatte sicuramente a iperpronatori leggeri ma come ho già detto il supporto mediale si sente poco, la correzione almeno sulla biomeccanica di corsa non è affatto estrema. Secondo me non crea nessun fastidio all'arco del piede ed è una scarpa credo che si adatta per tutti i podisti che pesino fino a 75 kg, peso oltre il quale molto probabilmente suggerirei di passare alle famose Cayano. Per le distanze direi sicuramente fino alle mezze maratone ma anche per chi ha un peso ottimizzato alla maratona sappiate comunque che danno secondo me il loro meglio anche sui lunghi lenti anche perché vi permettono di gestire al meglio in maniera rilassata tutte le vostre corse. Mentre come al solito il coniglio mi passa davanti indicandomi che è molto interessato a questa scarpa credo che la stessa possa essere utilizzata sia in strada sia nei trail ma anche e soprattutto sul tapirulano in questo periodo di zone rosse perché offre davvero una stabilità e una sensazione di contatto al terreno molto buona cosa che altre scarpe magari meno stabili non riescono ad offrire. Tra l'altro i ritmi di questa scarpa sono sicuramente vari si riesce a correre dai 6 al chilometro fino ai 3,30 ovviamente il comportamento della corsa è abbastanza particolare anche perché l'abbondanza di gel nella parte posteriore combinata con il fight foam rende l'appoggio di tallone relativamente morbido. Dico relativamente non aspettatevi un appoggio col cuscino perché la gomma invece influenza l'atterraggio e la protezione. Nei miei test Ranscribe ho visto due cose come già detto un'ottima protezione ma anche e soprattutto una ridotta velocità di pronazione che nei lunghi lenti è quello che mi sarei aspettato nel momento stesso in cui ho preso questa scarpa. L'appoggio di abbampiede invece è molto più dura e questa cosa permette a queste scarpe di correre più velocemente un minor tempo di contatto al terreno. L'unico vero inconveniente è che queste scarpe offrono una corsa meno confortevole tranne sulla tomaia e di conseguenza per chi preferisse correre con il cuscino ai piedi sappiamo che la soluzione migliore è quella di passare all'Ecaiano. Detto ciò ho apprezzato che nel mio doppio lungo 34 km il sabato 32 km la domenica il secondo giorno ho corso con le GT 2000 e ho visto a 4.20 che le sensazioni fossero comunque molto buone nonostante fossi molto stanco dall'uscita del giorno precedente. Nonostante la sensazione di spinta non sia davvero accentuata ma questa non è la scarpa per correre super velocemente credo che avrete un buon contatto al terreno una buona sensazione di feeling con il terreno stesso cosa che non vi farà sentire il peso di 280 grammi di questa scarpa. Peso che però offre la migliore protezione della categoria e di conseguenza anche questo è un punto a favore della scarpa stessa. A livello di durata la sensazione è che la scarpa possa durare almeno fino a 800 km a 200 km non c'è nessun segno di usura in nessuna parte della scarpa. Probabilmente dico solo probabilmente non ci sono ancora arrivato le sentire tescare che dopo 600-700 km ma sappiate che la qualità della suola la qualità della tomaia rende questa scarpa davvero eccellente e quindi può essere utilizzata come scarpa universale per i perpronatori. Dal mio punto di vista credo che la scarpa abbia come miglior punto di forza la qualità di costruzione della scarpa stessa il design davvero tradizionale ma al tempo stesso molto innovativo per chi ama una corsa negativa con una buona protezione. Penso che sia ideale se dovessi dire l'unico aspetto negativo ma qui siamo soltanto a livello di preferenze come di chi non mette il formaggio sulla pasta c'è una sorta di comportamento nella corsa nell'atterraggio più morbido nel tallone più duro nell'avampiede ma secondo me questo non ha davvero un grande impatto sul giudizio della scarpa stessa. Detto ciò la scarpa ha bisogno di qualche chilometro di rodaggio per mostrare le sue effettive caratteristiche in effetti ho aspettato 200 km per arrivare a una valutazione complessiva a 360 gradi. Concludo con due osservazioni la prima relativa a quella delle sorelle maggiori anch'esse introdotte 27 anni fa le Cayano 27 quest'ultime sono più morbide hanno un supporto mediale maggiore offrono gli ultimi ritrovati tecnologici ASICS ma le GT 2000 versione 9 secondo me sono più versatili e possono essere utilizzate per chi si allena dalle 3 alle 5 volte a settimana e di conseguenza cerca una scarpa tra virgolette universale. La seconda più che un'osservazione una news sono state in effetti lanciate proprio in questi giorni le ultimissime scarpe ASICS di cui attendevo la release lascio alla mia nipotina Giulia la padroncina del coniglio la possibilità di fare l'unboxing. Spero di recensirle presto io sono Massi racconto tutto quello che riguarda e gira intorno al mondo della corsa assieme al mio coniglio che qua sotto per ora nonostante le zone rosse e arancioni vi ricordo keep running, stay strong, lascio la parola a Giulia e nel frattempo do da mangiare al mio coniglio che ha bisogno di ingrassare prima del pranzo di Natale. Allora Devo leggere? Schippo Cosa sono? Eh sono delle belle scarpe che si andranno ad aggiungere alla tua collezione Come si chiamano? Gel Nimibus Nimibus 23 Ah wow In anteprima In anteprima In anteprima Grazie a tutti